Siamo con Stefano Lanini, difensore della Giannerminio. Oggi questo pareggio con Rimini, che tutti davano come una squadra montata così all'inizio del campionato, però abbiamo visto tutti che oggi è venuto giù per giocarsi la sua partita. Esatto. Come commenti questa prestazione con uomini, tra l'altro, molto fisicati davanti abbiamo visto? Sì, esatto. Come ho già detto, è stata un'ottima partita. Siamo stati bravi dopo il loro vantaggio a riprenderla e successivamente loro sono ripassati in vantaggio, ma noi comunque con carattere e l'abbiamo portata dalla nostra. Potevamo anche vincerla, però siamo stati bravi a non perderla, perché in questo caso qui basta un episodio a favore degli altri e rischi di buttare all'aria tutto quello che hai fatto. Comunque questo è un buon pari. Adesso c'è la partita di Coppa Italia con l'Albino Leffe. Esatto. Anche lì bisogna essere concentrati perché comunque ci teniamo a fare anche lì una bella figura e poi andremo a fare una domenica soprattutto per portare a casa il risultato. Grazie mille. Grazie.